La Cina difenderà con fermezza i suoi interessi ed esorta gli Stati Uniti a lavorare per migliorare le relazioni. È la replica del Ministero degli Esteri di Pechino alle parole del presidente USA. Biden nella notte aveva preso di mira la Cina durante il suo discorso annuale sullo stato dell'Unione al Congresso, invitando Pechino a non commettere errori. Difenderemo la nostra sovranità e i nostri interessi, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Pechino che ha aggiunto il nostro successo e quello degli Stati Uniti deve essere un'opportunità e non una sfida reciproca.